Allora adesso andiamo a fare un po' di safari fotografico qui nel rift di Samoa, mascherina, macchina fotografica subacquea e si va, venite? Dai andiamo, via! Allora adesso andiamo a fare un po' di safari fotografico qui nel rift di Samoa, dove andiamo a fare snorkeli, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta, questo è un enorme banco di corallo nel quale ci si trova veramente pesci di ogni genere, quindi direi che un posto vale l'altro. Andiamo qui? Andiamo qui! Il nostro canale è nel rift di Samoa, si è un proie di attivare la scelta, perché non ti serve un po' di safari fotografica Sous-titrage Société Radio-Canada